Nuovi arrivi all'aeroporto di Firenze e questa volta non si tratta di passeggeri, bensì del nuovo CDA. Gli esponenti della società di gestione dello scalo firentino, in due ore di assemblea a porte chiuse, hanno infatti eletto i 13 membri del nuovo consiglio di amministrazione, espressione della regione, delle due camere di commercio di Firenze e Prato, del comune di Firenze, dell'ente cassa di risparmio, della SOGIM e di aeroporti holding, controllata Davito Gamberale. La partita si è giocata sui vertici della società ma tutto è andato come previsto. Alla presidenza al posto di Vincenzo Manes è stato nominato un fedelissimo di Matteo Renzi, Marco Carrai, mentre come amministratore delegato è stato scelto l'ex numero uno dell'aeroporto di Napoli, Mauro Pollio, che qui vediamo lasciare per Etola con Biagio Marinò di cui prende il posto. L'assemblea dei soci è stata anche l'occasione per un bilancio del triennio passato. Il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Vasco Galgani, unico a prendere la parola in assemblea dopo la nomina del nuovo CDA, ha salutato i vertici uscenti con parole di riconoscenza, in particolare per Marinò, cui ha riconosciuto di avere svolto un gran lavoro sia portando a compimento i lavori di rinnovamento del terminal, sia tenendo la barra dritta sulla questione della nuova pista, resistendo alle difficoltà che si sono frapposte nel corso degli anni. Noi abbiamo avuto il merito di definire almeno una soluzione di pista condivisa da tutti, oggi all'esame della regione, speriamo che poi continui nel suo ite il più velocemente possibile. C'è un accordo tra i soci pubblici che prevede l'approfondimento sulla creazione del sistema aeroportoale toscano, dire che tutte le pietre sono state messe giustamente. Bisogna ora supportarle e condividerle e svilupparle. Compito che tocca appunto al nuovo CDA, che per nove membri su 13 è espressione del territorio, anche se la maggioranza dell'azionariato resta di fatto nelle mani di Gamberale e di Aeroporti Holding.